Una vita da Doug, straordinariamente accurato. Wabalaba dub dub e bentornati su No Mamamazzo. Oggi siamo in compagnia di un ospite illustre, un ospite speciale che può aiutarci a capire meglio la serie di cui vado a parlare. Lui è Mirtillo e oggi parliamo di Vita da Doug, una mini serie animata di soli 5 episodi che trovate su Disney+. Una serie che sono stato molto felice di scoprire su Disney+. Quando l'ho vista ho scritto su Instagram che appunto mi sarebbe piaciuto parlarne, quindi eccomi qui, ne parlo insieme a voi. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri. Che vi frega di condividere il video con tutte le persone che hanno un cane e di commentare qui sotto con quello che ve ne pare di questa serie e di questo video. Vita da Doug riprende i personaggi del film Up, se non l'avete visto. Piccolo riassunto, è quel film dove c'è questo vecchietto rimasto vedovo che non vuole abbandonare la sua casa, ma che vuole portare a compimento il sogno che aveva fatto con la sua ormai defunta moglie. Quindi riempie la sua casa di palloncini con l'elio, quindi si liberano in aria insieme alla sua casa e vola. Viaggia per delle avventure straordinarie in cui tra l'altro conosce questo Doug, che per una serie di motivi che non sto a spiegarvi perché non sono utili alla fine di questa serie TV, Doug ha un collare tecnologico che gli permette di parlare il linguaggio umano. Quindi per un fattore esterno lui riesce a farsi comprendere dagli umani con un linguaggio umano. Un linguaggio umano comunque molto semplificato proprio perché Doug è un cane, quindi non c'è nessun mezzo straordinario, lui non ha un'intelligenza straordinaria, è un semplice cane. Quindi noi vediamo tradotti il linguaggio umano, questi suoi pensieri semplici da cagnolone e qua sta, diciamo, il fattore comico in un certo senso. Vediamo come facilmente si distrae per la presenza di uno scoiattolo. E anche in questi piccoli episodi vediamo un po' tutte le caratteristiche peculiari dei cani trasportate in quello che noi possiamo comprendere. Quante volte il vostro cane di punto in bianco si è messo a puntare o a voltare il capo perché ha sentito qualcosa che solo lui sente, grazie comunque ai suoi sensi canini, noi ci siamo sempre chiesti che cavolo avrà sentito, che cavolo avrà odorato. Ecco, questo piccolo cartone cerca di darci alcune risposte simpatiche. Come lo scoiattolo che già avevamo visto nel film, qua ci sono alcuni episodi in cui ci mostrano un Doug, un cagnolone simpatico come Doug, alle prese con alcune delle cose più comuni per un cane domestico. Nel primo episodio c'è una vera e propria lotta con lo scoiattolo perché non si può introdurre questo personaggio senza introdurre quella che è un po' la sua Nemesi, no? Anche nel telefilm... scusate, anche nel film. Quindi vediamo Doug che finalmente affronta uno scoiattolo. Nel secondo episodio lo vediamo affrontare dei cuccioli, vediamo proprio anche la differenza di un cane adulto e di cani appena nati, comunque giovanissimi, che quindi stanno esplorando il mondo, quindi mordono tutto, devastano ogni cosa, sono un impegno anche per un cane un po' più adulto come Doug. Nel terzo episodio vediamo che si parla di odore, vediamo di quanto straordinaria è la capacità olfattiva dei cani e di molte cose che appunto per un cane sono normali e che noi troviamo assurde, come il fatto appunto che lui, che Doug, trovi un odore ripugnante e che il suo primo istinto sia strusciarcici con la schiena. Lo vediamo fare sia appunto nella realtà che nell'episodio successivo, mentre ha un sogno, nell'episodio sull'odore appunto vediamo come lui riesca a salvare una casa in fiamme perché l'odore che non aveva mai sentito era odore di fuoco, odore di bruciato e quindi riesce in qualche modo, citando anche Lessie, a salvare il vicinato. Nel quarto c'è un fantastico episodio sui fuochi d'artificio, uno dei veri e propri drammi per i cani perché molti cani si spaventano tantissimo per i rumori forti. I fuochi d'artificio sono causa di cani che scappano, addirittura cani che possono rimanere diciamo traumatizzati dall'esperienza al punto che scappano e rischiano di rimanere uccisi perché sono frastornati e magari vengono investiti o addirittura proprio dal suono medesimo dei fuochi d'artificio vengono spaventati a morte, tant'è che ci sono molte battaglie della protezione animali sull'eliminare i fuochi d'artificio. Ora ovviamente non si può eliminare qualcosa che è fuori dal nostro controllo perché dubito che chi fa i fuochi d'artificio abbia dei cani, però ecco si possono limitare i danni, quindi soprattutto a Capodanno o comunque quando c'è qualche festa dove si sa che ci sono i fuochi d'artificio, cercate di stare vicini al vostro cane o se non potete per qualche ragione, per esempio Capodanno magari uno esce, cercate di affidare il vostro cane a qualcuno che può occuparsene e che può stargli vicino per assicurarlo. Uno dei tanti modi per assicurare il cane quando ha paura dei fuochi d'artificio è cingerlo per farlo sentire protetto, ci sono anche dei veri e propri aggeggi, delle vere e proprie fasciature per cingere il cane, per farlo sentire un po' più sicuro. È un problema che magari riguarda meno i cani anziani perché perdendo un po' l'udito come succede a noi esseri umani sentono di meno, però è un problema abbastanza grosso per chi possiede gli animali. Il problema che io avevo col mio cane precedente, finché appunto non ha perso un pochino l'udito, devo dire che invece questo bagongo qui che ho sul mio grembo non ha assolutamente questo problema e sono molto fortunato da questo punto di vista quando invece la norma è che il cane abbia il terrore dei fuochi d'artificio come abbiamo visto succedere nell'episodio con Doug. Tra l'altro appunto molti cani addirittura svengono come è successo a Doug che poi lo abbiamo visto sognare il sogno più bello di tutti i cani finché poi non si è trasformato appunto in questo incubo di rumori, rumori che poi vengono attenuati da queste cuffie in cui il rumore continuo della musica distrae un attimino l'animale. Ci sono anche delle cuffie insonorizzate, quelle che usano negli ambienti di lavoro, il difficile è riuscire a farle mettere a un cane. E infine nell'ultimo episodio vediamo appunto la differenza tra Doug che è un cane domestico e un animale selvatico come appunto lo scoiattolo o il colibri, l'uccellino che volava e che ha fatto capire a Doug che non tutti sono fortunati come lui. Un piccolo episodio conclusivo per far vedere, per introdurre Doug diciamo come membro della famiglia. Che dire, io spero che facciano altre stagioni di Vitara Doug perché è una serie davvero simpatica e spero appunto che trattino ancora spunti così realistici, così verosimili sugli animali perché appunto solitamente siamo abituati a vedere degli animali antropomorfizzati oppure degli animali che non possono parlare. Questa qui è la giusta via di mezzo secondo me per avvicinare anche il mondo di un cane reale a magari anche un bambino, comunque a una persona che cerca un po' di capire meglio il proprio cane. Vi dire grazie per avermi seguito fino a qui o come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto vi dico arrivederci al prossimo video e se siete arrivati su questo canale per la prima volta vi do il benvenuto. Arrivederci ancora!